Sogni le cose che non sono vere? Se mentre dormi sogni un'anatra che vola e uno zucchero filato che balla, quello è un sogno bello. Se invece sogni un temporale o un vampiro, quello è un brutto sogno. Per me questo è un sogno. Per me il sogno è qualcosa che puoi fare sempre. Puoi fare nella realtà ma puoi camminare sulle nuvole ma nella realtà non puoi. Puoi fare delle cose incredibili che nella realtà non puoi fare. Puoi fare tutto, però non succede nella realtà, però sarebbe bello. Puoi sognare di diventare dottoressa, fare delle cose, creare scopi, creare tutto. Una cosa che si può fare di notte e di giorno, che la possono fare tutti ed è molto speciale. Tutte le persone, anche gli animali. Puoi sognare di ricorrere un biscottino, oppure di trovare una cosa da mangiare buona, tipo una bistecca. Una tigre può sognare di correre velocissimo, più veloce di tutti gli altri. Oppure un gatto può inseguire un topo, mangiarselo. Oppure un pesce di diventare un capo di tutti gli altri pesci. Immagino delle cose belle che mi piacerebbero essere, tipo un potere speciale, tipo volare. Non è quello il mio sogno, però una cosa del genere. Non solo di notte, qualche volta a scuola, anche un po' a ricreazione, quando non ho niente da fare, che non ho voglia di andare di fuori. Che quando voglio pensare a qualcosa mi metto comodo e viaggio nella mia immaginazione.